Incertezza anche per Omega B, lo stesso per Original Photo, parte veloce dalla seconda fila, Nestor Joy, chiusura delle ali, assume il comando, Omar Naim, interviene Nestor Joy a largo e ottiene in breve strada. Duecento in quindici secchi, a largo Mr. Tivoli, a tabellone O30KG e Original Photo. Nestor Joy precede Omar Naim, in terza posizione il quattro Midarab che precede il sette Orsenico Park, per linea esterna e Mr. Tivoli che si trascina, Nilo Onferm. Si arriva così al completamento dei primi 600 metri, in 49, fa i propri comodi Nestor Joy che tra l'altro è passato al comando senza spesa. Accucciato a largo Mr. Tivoli che cerca di risparmiare il più possibile, muove in terza ruota Nilo Onferm. Nilo Onferm scavalca Mr. Tivoli dopo 800 in 1,5 e raggiunge in seconda posizione Omar Naim. Si fa vedere anche Nobile Alfredo dalle retrovie che punta in avanti, 21,3, il primo chilometro. Nestor Joy, Omar Naim, Nilo Onferm, Nobile Alfredo che sta cercando di sistemarsi in seconda pariglia e vi riesce, ad 800 circa dalla conclusione. Ultima frazione in 16,5. Ci prova anche Omega V dalle retrovie e Indovino che ha recuperato il gap. Il tabellone anche Nonno Borgi, adesso Nestor Joy comincia ad allungare, Omar Naim lungo la corda, sembra in calo. A largo resiste Nilo Onferm che si trascina a Nobile Alfredo. Allunga Nestor Joy, Nilo Onferm cerca di scendere in seconda la corda, si libera però Minopoli con Orsenico Park. Orsenico va a caccia di Nestor Joy. Orsenico Park attacca a fondo Nestor Joy. Poi lungo la corda Nilo Onferm e allargo c'è anche il buon Giustino Panico con Goldfinger O.M. Battute conclusive, retta d'arrivo, Nestor Joy attacca da fondo da Orsenico, poi interviene anche Goldfinger. Orsenico Park per il secondo, Nestor Joy respinge, Goldfinger O.M. Media probabile di 1.19.2, successo di Orsenico Park che sposta i 400 finali, fa a caccia di Nestor Joy, lo sottomette e passa. Al secondo Nestor Joy che avrebbe dovuto far meglio dopo un percorso piuttosto semplice. E al terzo termina forte, Goldfinger O.M. E questo è l'arrivo probabile ed ufficioso della settima del Cirigliano. Sugli scudi.